Allora amici di Modena Volley, siamo tutti qui alle prese con la clausura, forse sta finendo, forse no e naturalmente ci poniamo una raffica di interrogativi su quello che sarà il futuro della nostra passione sotto rete che squadra avremo l'anno prossimo, a quali campioni ci potremo affezionare eccetera vedremo perché mai come in questo momento chiunque è costretto a navigare a vista mi fa piacere allora trovare nella memoria di nuovo uno spunto incoraggiante perché lo sapete sono trent'anni da quel magico trionfo di Modena nella Coppa dei Campioni all'epoca non si chiamava Champions, era il 1990 e per chi ha l'età quello era diventato un po' un incumo una sorta di ossessione, pensate che nemmeno Giulio Velasco che pure aveva dominato in Italia i quattro scudetti consecutivi ce l'aveva fatta spezzare il tabù e finalmente quando Velasco era già commissario tecnico della Nazionale i ragazzi allenati da un signore che si chiamava Jankovic, se mi ricordo bene finalmente fecero l'impresa come nel film di Pupiavati e fu qualche cosa di sublime non che vorrei dire di conclusivo perché poi la storia prese un certo indirizzo e questo dovrebbe farci riflettere sulle prospettive che attendono la pallavolo non solo modenese ma italiana a causa anche del virus dicevo la storia svoltò perché all'epoca entrarono in contemporanea nella pallavolo grandi potenze economiche e Giuseppe Panini che era una figura leggendaria con sommo dispiacere fu costretto a lasciar partire tutti quei giocatori da Bertoli, Lucchetta, Vullo eccetera Bernardi, Cantagalli ovviamente che avevano alzato la Coppa dei Campioni però proprio perché la memoria è importante ed è un filo che unisce passato e presente da lì anche dopo la famosa diaspora Modena nel volley si rialzò torno protagonista con Giovanni Vandelli lui ancora di nuovo oggi con Cati e Pedrini e quindi io sono sicuro che questa storia infinita come il famoso film never ending story eccetera ecco questa storia infinita avrà di nuovo ancora capitoli anche internazionali da sfogliare assieme e del resto è freschissima la notizia che Modena volley è stata ammessa la prossima edizione della Champions League quindi guardiamo avanti e non facciamoci prendere dalla paura perché come cantava appunto Zucchero Don't panic, I've got it inutile farsi prendere il panico perché ce l'abbiamo già tutti per altri motivi